Siediti o sdraiati comodamente. Chiudi gli occhi. Prendi un respiro profondo e lento, rilassando ogni muscolo del tuo corpo. Immagina di essere in un luogo tranquillo, come una spiaggia o un bosco, dove puoi sentirti completamente rilassato e al sicuro. Ora concentrati sul tuo respiro. Seguilo mentre l'aria entra ed esce dalle tue narici, notando come il tuo petto si alza e poi si abbassa. E se per caso ti distrae con i pensieri, torna semplicemente al tuo respiro. Grazie. 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 una luce bianca che ti circonda. Questa luce ti protegge e ti dona pace. Immagina di immagazzinare tutte le tue preoccupazioni e paure in una scatola. Immagina la scatola essere di un colore che ti piace, magari di un bel colore caldo per simboleggiare il calore e la protezione che ti dà. Immagina la scatola. Immagina la scatola. Adesso immagina di chiudere questa scatola con molta cura e di vederla allontanarsi da te, lasciandoti completamente libero e leggero. Grazie per la visione! Continua a concentrarti sul tuo respiro e sulla luce che ti circonda ancora per qualche minuto, permettendo alla tua mente e al tuo corpo di rilassarsi completamente. E nel frattempo la scatola in cui hai racchiuso tutte le tue paure e le tue preoccupazioni si allontana sempre di più da te, lasciandoti completamente libero e leggero. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Quando ti senti pronto, apri gli occhi lentamente e torna al presente, portando con te la sensazione di pace e tranquillità che hai trovato durante la meditazione. non avere fretta, la musica continuerà ancora ad andare per un po'. A presto! Namaste! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!